Salve, sono Rosario Privitera, Sales Area Manager della TS Italia e oggi siamo qui a presentarvi il nuovo grappolo resistente a tomato brown della TS Italia. Siamo in Sicilia presso l'azienda Chiaramonte, un'azienda che lo ha già coltivato per tre cicli e lo ha scelto non solo perché è resistente a tomato brown ma soprattutto perché ha una bella pezzatura, stiamo parlando intorno ai 200-250 grammi, un ottimo colore, consistente, long chef life elevata e anche un buon sapore. È stato trapiantato il 27 di settembre, è andato in raccolta più o meno dopo 100 giorni, è stato allevato in verticale, il sesto di impianto, la distanza tra piante e piante è intorno ai 42-45 centimetri ed ha delle caratteristiche non soltanto di produttività ma anche di grappolo con un rachide corto che non necessita di essere sostenuto né tantomeno di essere fatto il pruning perché il grappolo è abbastanza compatto. Sono convinto che questa è una delle soluzioni per combattere il tomato brown. Se poi lo associamo al nostro portennesto Interceptor, anch'esso il primo portennesto resistente a tomato brown della TS Italia, abbiamo sicuramente una buona copertura contro questa virosi. Mi auguro che tutti possiate quantomeno provarlo perché effettivamente è una soluzione, una barriera contro il virus.